Gentili ascoltatori, un cordiale buonasera. Oggi su Cannotv ritorniamo a parlare di fumetti e lo facciamo con la ristampa di una storia di Diabolic, più precisamente riferita al grande Diabolic, testata che occasionalmente si trasforma in Eva Kant, quando cioè va ad indagare sul passato della celeberrima compagna del re del terrore, che compare anche naturalmente in tante altre copertine della serie regolare del personaggio. Guardate questa quanto è bella copertina dal fascino vintage, ma qui su questo canale è tutto quanto vintage, anche la storia di cui vi parlerò oggi, perché propostaci recentemente, in occasione del sessantennale, insomma, della nascita di Diabolic, in questo formato, un po' più di lusso rispetto al solito. Vedete la copertina semiflessibile con le alette, che risultano particolarmente utili per chi esegue una lettura a step, come per esempio è capitato di fare al sottoscritto per quanto riguarda quest'albo, con una copertina rielaborata, con un formato grosso e con una tonalità di azzurro, che viene aggiunta agli splendidi disegni di Giuseppe Palumbo, di cui disquisiremo tra poco, il costo è anche piuttosto contenuto, infatti il danno è di soli 8 euro. Anche se c'è una cosa che veramente non mi piace di questa ristampa, e cioè l'assenza di redazionali, purtroppo, che è una caratteristica tuttora ben lieta, presente negli albi del grande Diabolic, insomma, questi redazionali che risultano molto utili, soprattutto per chi, come il sottoscritto, non è un esperto, insomma, della testata in questione, e questi redazionali molto spesso ci vanno ad illustrare degli interessantissimi retroscena, oltre che sulla storia in questione, anche sul passato, insomma, sul trascorso dei protagonisti della testata. In particolare, i redazionali del grande Diabolic permettono uno sguardo piuttosto approfondito circa albi passati, potenzialmente anche recuperabili, ecco, per comprendere meglio le tematiche raccontate, sposte in queste storie. Vedete, per esempio, qui delle immagini riferite al primo storico incontro tra Diabolic ed Eva, nell'album numero 3 della serie regolare L'Arresto di Diabolic, ma qui sono presenti anche altre copertine di albi utili al fine di comprendere meglio il passato della nostra bellissima Eva Kant. Ad esempio, questo albo, risalente al 1968-69, qualcosa del genere, che si intitola Ricordo del passato, presentava degli accenni raccontati dalla stessa Eva del suo passato, che poi ci vengono, che vengono appunto meglio esposti in questa storia, di cui io vi mostro la copertina originaria di questo albo del grande Diabolic, vedete, intitolato Eva Kant, Quando Diabolic non c'era, risalente appunto al marzo del 2003, quindi vent'anni fa, vent'anni fa, usciva questa storia scritta da Sandrone D'Azzieri e Tito Faraci. Ora, io non so Sandrone se sia soltanto un soprannome, perché così anche noi abbiamo un amico che si chiama Lorenzo, che noi lo si chiama Lorenzone perché è alto più di 6 metri, quindi Lorenzone, naturalmente, oppure se è proprio il suo nome, non lo so. Comunque ha scritto questa sceneggiatura assieme a Tito Faraci, questa storia resa graficamente da Giuseppe Palumbo, disegnatore celeberrimo, insomma, della testata al grande Diabolic, con questo suo tratto un pochino spigoloso, decisamente più moderno rispetto ai disegni che solitamente vediamo, insomma, negli albi mensili, ecco, regolari, quidicinali, o quello che erano, ecco, di Diabolic, a cui appunto vengono aggiunte queste tonalità di blu, ma dei disegni parleremo tra poco, anche perché a livello grafico il prologo e l'epilogo di questa avventura sono eseguiti da Emanuele Barizon e in questo caso la ristampa ci propone il disegno in bianco e nero dell'originale, quindi senza l'aggiunta della tonalità di azzurro. Bellissimi, naturalmente, i disegni di Emanuele Barizon, un pochino più classici, un pochino più simili, diciamo, al tipico disegno che possiamo vedere sulla regolare di Diabolic, anche se qui le strisce sono tre, mentre invece le strisce sono soltanto due, solitamente, ecco, salvo naturalmente eccezioni sulla regolare di Diabolic. Beh, che cosa ci racconta questa storia? Ci racconta alcuni trascorsi veramente affascinanti, quanto avventurosi, anche drammatici, tragici, ecco, in alcuni punti, del passato di Eva Kant e ci vengono raccontati anche tutti i personaggi che ruotavano attorno alla giovanissima Eva, primo fra tutti, naturalmente, la madre, Caterina, ingannata dal Lord Rodolfo Kant con cui lei aveva concepito questa figlia, non riconosciuta da Rodolfo perché Caterina non apparteneva al rango, naturalmente, dei Kant. Assieme con la complicità del malvagio Lord Anthony Kant, che sarebbe poi il cugino di Rodolfo, Rodolfo ingannerà Caterina spingendola al suicidio, non riconoscendo la figlia Eva che sarà costretta alla fuga ma che non cesserà mai di meditare, diciamo, vendetta nei confronti soprattutto del perfido Lord Anthony Kant che è il responsabile di tutte, appunto, queste drammatiche vicissitudini. E quindi vedremo una Eva in molteplici vesti, in fuga, appunto, da questo nome che lei desidera così tanto, da questa famiglia il cui nome lei desidera così tanto, appunto, il nome dei Kant, perché è il nome che le spetta, naturalmente, poiché il padre Rodolfo a lei, sempre presentato come uno zio, avrebbe dovuto, insomma, darle, ecco, questo nome. Vedremo una Eva in collegio, in orfanotrofio, in un collegio durissimo. La vedremo anche in veste di cantante di Knight, quindi con una, come potete vedere, insomma, da queste immagini, con un'atmosfera richiamante, i vecchi noir olivudiani, insomma, Rita Hayworth, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe e tante altre, naturalmente, insomma, celeberri medieve, no, che vengono in qualche modo rievocate da queste immagini, ma c'è da dire che Eva Kant, insomma, se Diabolic si ispira, si ispirava a quel bel tomo di Robert Taylor, ed è anche Eva Kant, insomma, ha delle ispirazioni così, celebri, naturalmente, da Kim Novak a Grace Kelly, si sono fatti, naturalmente, tanti nomi per l'aspetto, la figura, no, di Eva Kant. Quindi tutte queste atmosfere, a cui, in qualche modo, Diabolic da sempre, no, si ispira, queste atmosfere un po' classiche, vengono perfettamente rielaborate, in veste un pochino più moderna, un pochino più spigolosa, insomma, con una griglia, anche, spesso e volentieri, completamente diversa, no, rispetto a quello che vediamo solitamente sulla testata di Diabolic, da Giuseppe Palumbo, che secondo me fa, veramente, ancora una volta, una volta di più, un ottimo lavoro grafico, e questa tonalità azzurrina, che viene apposta, diciamo, sui disegni di Palumbo in questa edizione, secondo me è perfetta, perché non appesantisce più di tanto le tavole, e anzi restituisce un senso di tridimensionalità maggiore, come potete vedere, uno spessore maggiore, andando a caratterizzare ancora meglio questi volti, quasi distorti in alcuni punti, quasi cartuneschi in altri, come potete vedere, no, da queste fisionomie un po' esasperate, tipiche, appunto, di Giuseppe Palumbo, che ormai è una firma celebre, no, dei Diabolici, grandi, grandi Diabolic, naturalmente. Io ho trovato qualche similitudine in questa storia con Anastasia, cioè tra Eva Kant e Anastasia, perché se Anastasia perde la famiglia per mano di Rasputin, ed è costretta, appunto, a questa fuga, poi questi ritorni, poi questi intrighi, eccetera, eccetera, la stessa cosa, in qualche modo, succede con Eva Kant, la cui famiglia le viene tolta per causa di questo Lord Anthony, la cui figura e la cui estetica ricordano quasi quella di un Rasputin, con questi capelli lunghi, con questo pizzetto mefistofelico. Ecco, naturalmente i due personaggi sono diversi, però hanno qualche similitudine, secondo me, hanno qualche similitudine. E per il resto, l'ambientazione è a cavallo tra l'esotico, il sentimentale, l'avventuroso, con una Eva che arriverà anche in Sudafrica. Quindi, ecco, è forse l'unico luogo reale, realmente esistente, che viene citato in tutta la saga diabolica, no? La testata, ecco, di diaboliche. Quindi una particolarità anche in questo senso. Questa storia mi è piaciuta? Onestamente, non molto. Nel senso che mi è risultata un pochino pesantuccia, perché a me queste dinamiche, un po' appunto questi intrighi sentimentali, questi intrecci relazionistici, diciamo, relazionali, relazionistici tra i vari personaggi, la mamma, il cugino, lo zio, il papà, insomma, queste cose qui sono un po' beautiful, un po' questi intrighi, un po' questi intrecci, ecco, alla beautiful, oppure di stampo naturalmente classico hollywoodiano, quelle storie un po' strappalacrime alla Mogambo, alla Via Colvento, eccetera, eccetera, con un Rodolfo Kant che sembrerebbe un po', vediamo un po', ecco, sembrerebbe una sorta di John Gilbert con questo volto un po' spigoloso, con questi baffetti a fiammifero, con questa pettinatura un po' impomatata. Quindi il richiamo, naturalmente, è a quelle atmosfere un po' esotiche, sentimentali, drammatiche, avventurose, eccetera, eccetera, che costituiscono da sempre un po' la cifra di queste storie che indagano sul passato dei comprimari di Diabolic. Non mi ha fatto impazzire come storia, però sono contento di averla letta perché è importante, se non addirittura quasi fondamentale, anzi direi fondamentale a tutti gli effetti, assieme a tanti altri step, naturalmente, per capire, per comprendere, il passato di Eva, quel passato che Eva non ha mai detto a Diabolic. Infatti c'è questa sorta di enigma ancora, tra questi due personaggi che si amano così tanto, che sono legati da un sentimento così sincero, così perfetto. Loro sarebbero pronti a morire, insomma, l'uno per l'altra, però ci sono delle dinamiche che Eva non ha mai raccontato a Diabolic. E leggendo il prologo di questa avventura, scopriamo che neppure questa storia che noi abbiamo letto in questo gigantesco flashback, durato tutto quanto il volume, è stata esposta a Diabolic da parte di Eva. Cioè, Diabolic è ancora all'oscuro di tutti questi trascorsi, appunto, di tutte queste caratteristiche relative al passato di Eva. Chissà se Eva, un giorno o l'altro, insomma, si deciderà a raccontare a Diabolic qualcosa del suo passato. Sì, perché ruota attorno tutto quanto a questo diamante rosa che nel prologo di questa avventura, Diabolic è finalmente riuscito a recuperare questo diamante rosa che compariva fin dal primo celeberrimo incontro di Eva e Diabolic, appunto, nell'arresto di Diabolic, e che Eva rifiuta, rifiuta decisamente perché le sovviene guardando questo diamante in mente tutto quanto il passato, questo passato drammatico, questa madre morta, questo padre che non l'ha mai riconosciuta e questa tremenda vendetta che poi lei ha portato a compimento, questa perfida proprio vendetta che lei ha portato a compimento nei confronti di questo Lord Anthony Kent. Kant, scusate, Kant, non Kent. Bene, io termino qui la mia confusissima, insomma, impressione circa questo numero. Recuperatelo perché è importante, recuperatelo sia in questa edizione, alla quale, ahimè, purtroppo mancano i redazionali, mannaggia, oppure vedete se riuscite a recuperare l'albo originale risalente al marzo del 2003. Ma se l'avete letta, fatemi sapere che cosa ne pensate a riguardo. Se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, perché vi è piaciuta, perché non vi è piaciuta, chi vi sta simpatico, chi vi sta antipatico, e insomma, parliamone assieme. Grazie a tutti per l'ascolto e ci rivediamo a voi piacendo a un prossimo video. Ciao a tutti!